Come si può sfruttare l'autonomia universitaria? Come si può sfruttare l'autonomia universitaria? Io mi permetto su questa raccomandazione di chiedere anche a voi rettori un parere sulla consultazione che proprio questo governo ha aperto in questi ultimi giorni e che è quella relativa al valore legale della laurea e del titolo di studio più in generale rispetto all'impatto che un'eventuale modifica dell'attuale disciplina può avere sull'assorbimento, sulla diversificazione dell'offerta e su meccanismi per così dire di valutazione ex post della formazione terziaria e post terziaria da parte del mercato del lavoro, il sistema delle imprese ma è inutile che ci nudiamo a cominciare dal sistema pubblico perché è lì il grande problema, perché in realtà nel mondo delle imprese e dell'economia questa valutazione viene già fatta da anni come sappiamo perfettamente. Terzo spunto c'è a proposito delle raccomandazioni in cui si chiede un innalzamento della parte privata nel finanziamento dei costi dell'offerta terziaria e post terziaria, c'è anche il riferimento non solo a parti di finanziamento private per soggetti organizzati, magari sistemi di imprese, imprese interfacciate all'università e così via, ma c'è anche un riferimento alle rette. Io mi permetto di richiamare questo punto perché è un punto molto delicato nella vita di questi ultimi anni, io conosco solo esempi di sentenza, di giurisprudenza, che hanno regolarmente dato ragioni alle impugnative da parte di studenti, associazioni di studenti e sindacati organizzativi di associazioni di studenti, che di fronte a una diversificazione delle proposte di cost sharing anche sulle rette, che è una delle indicazioni della riforma e degli interventi sull'università in questi anni, hanno regolarmente sempre dato a chi faceva le impugnative, ragione. Quindi da questo punto di vista è un po' difficile immaginare aumenti del cost sharing privato se poi c'è un custode delle leggi che la pensa diversamente dal legislatore, almeno da quello che ho capito. Mi sono permesso di fare questi tre spunti, Professor Paleali, naturalmente per chiedere anche a lei poi sul totale delle raccomandazioni, quali considerazioni può fare e che cosa, se questo si aspetta anche da Regione Lombardia come interlocuzione più diretta. Grazie, potrei girare l'ultima domanda al legislatore, nel senso che visto che le sentenze vanno in quella direzione, prima ci dica lui che cosa dobbiamo fare e poi noi ci adeguiamo volentieri. In effetti ringrazio il nostro moderatore perché ha voluto mettermi subito in difficoltà, giustamente i rettori in questo caso sono parte osservata, però non mi voglio sottrarre da questi suoi stimoli. Mi lasci dire in primo luogo, visto che siamo in un contesto in cui si sta facendo una valutazione di un sistema lombardo sotto profilo di un'autorevole organizzazione internazionale, di come la Lombardia esprima anche nel sistema universitario una vitalità davvero senza tanti altri confronti. I dati riportati nel rapporto dell'OECD ci dicono di una popolazione di 232.000 studenti che da quando è stato redatto il rapporto è già salita a 250.000, cioè la Regione Lombardia è tra le regioni italiane e forse la regione italiana che più aumenta il numero di studenti quando in Italia il numero di studenti viceversa tende a ridursi. Quindi siamo un bacino di attrazione e lo siamo a mio avviso perché in questo caso risponderei a una domanda che ha fatto uno studente cinese una volta parlando di Europa, a un certo punto ha interrotto il professore e ha detto ma scusi visto che parla di Europa ma l'Europa è un laboratorio o è un museo? Allora io dico che in questo caso sotto profilo dei sistemi universitari la Lombardia è un laboratorio, una sorta di Lomb Lab dove c'è un confronto, oggi potremmo dire competizione, tra università che sono politecniche, economiche, pubbliche, private, di varia estrazione, di natura territoriale. Ecco è un caso veramente molto interessante e lo dico con un certo orgoglio anche quando raccoglo le raccomandazioni dell'OECD e arrivo alla prima domanda rispetto alle quali noi possiamo fare la nostra parte ma non possiamo violare le leggi dello Stato. Cioè noi dobbiamo comunque in molte delle raccomandazioni che sono state fatte in questo momento noi non siamo nella condizione di poterle raccogliere perché l'offerta formativa è stata regolata da una legge nazionale del settembre del 2010, viene congelata anche per l'anno accademico 2012-2013 quindi questo è un punto che veniva sottolineato. E' chiaro che in questo momento il sistema universitario, lei l'ha ricordato, sta attuando la riforma Gelmini e sta cercando di estrarre da quella riforma tutte le cose che si ripetono migliori. Al di là degli statuti che sono quasi tutti in fase di approvazione, questo è veramente l'anno zero per il sistema universitario. Ecco però ci sono alcuni aspetti e arrivo alla seconda domanda che è quella dell'accreditamento e quindi del valore legale del titolo di studio. L'accreditamento è una bellissima cosa. Nessuna delle nostre università, penso almeno in Lombardia, ha nessun problema nel farsi valutare, controllare, contare tutto quello che fa sia sotto profilo amministrativo e contabile sia sotto profilo della qualità dell'offerta formativa. E quindi quando si parla di sistemi di accreditamento basati sulla valutazione dell'output, cioè del risultato, noi non abbiamo nessun problema. E' talmente vero questo che io penso che in una situazione come questa il valore legale del titolo di studio sia un di cui e non il motivo centrale della discussione. Se l'obiettivo è favorire la competizione fra gli Atenei, e io sono anche abbastanza d'accordo su questo, quando dico abbastanza non perché abbia un dubbio ma perché la parola competere non vuol dire eliminare uno con l'altro ma vuol dire tendere ad un obiettivo comune che è quello di avere un sistema universitario all'altezza della società e del sistema economico che lo ospita. Dico se il problema è favorire la competizione degli Atenei, allora su che cosa competono gli Atenei e qual è il ruolo dello Stato in questo? Questo è il primo problema a cui noi dobbiamo rispondere prima di dire se la laurea deve avere o no un valore legale. Allora la competizione si fa a mio avviso su tre fattori, il fattore umano che vuol dire come vengono reclutati i ricercatori e come vengono pagati, la dotazione infrastrutturale che vuol dire dotazione, accessibilità e residenzialità e il contesto ambientale che vuol dire qualità e costo della vita e opportunità. Su questi tre fattori le università devono essere messe nella condizione di competere. Qual è il ruolo dello Stato? Allora a questo punto lo Stato può fare tante cose, può innanzitutto fare in modo che la competizione non sia una competizione monca, perché ancora oggi il finanziamento alle università italiane risente di una componente storica che è molto lontana dalla dinamicità che le università manifestano, per cui se noi dobbiamo competere ci deve essere una sorta di costo standard per studente a parità di offerta formativa che è un punto di partenza, ci deve essere la fissazione per le università pubbliche di un limite massimo delle rette che non deve essere agganciata ad un parametro anacronistico, per cui oggi il valore massimo su cui si basano quelle sentenze è agganciato ad un altro parametro che è il finanziamento dello Stato. Se il finanziamento dello Stato scende, paradossalmente secondo questa logica dovrebbero ridurse anche le contribuzioni studentesche. Allora lo Stato se vuole favorire la competizione, prima ancora che discutere del valore legale del titolo di studio, dovrebbe dire questi sono i fattori, ne possiamo aggiungere degli altri, io ho voluto fare solo degli esempi, questo è il ruolo dello Stato, mettere le università in una condizione di parità dei punti di partenza e poi vinca il migliore, si stabiliscono, l'ha detto correttamente anche il Presidente, un sistema di valutazione periodico come avviene per esempio nei paesi anglosassoni dove c'è il research assessment exercise ogni 4 anni e sulla base della competizione verranno premiati gli atenei che hanno fatto meglio e verranno disincentivati gli atenei che hanno fatto peggio. Questo lo dico perché noi troppe volte rischiamo di giocare in negativo le cose. Se noi vogliamo fare un complimento ai laureati che si laureano in corso, noi non diciamo bravi a quelli che si laureano in corso ma diciamo cattivi a quelli che si laureano 28 anni. Mentre dovremmo secondo me vedere anche le cose un po' più in positivo, far sentire bravi quelli che veramente sono bravi e fare una riflessione su quelli che si tolgono da quel percentile. Una considerazione però vorrei farla in un contesto come questo con la presenza di un autorevole esponente dell'OECD. Quest'anno è un anno importante, lo dicevo per il sistema universitario, ma lo è anche sotto profilo simbolico perché mi sono messo a fare il rapporto tra il finanziamento dello Stato per studente e il valore del canone della RAI. Un confronto che può essere interessante sotto profilo quantitativo. Allora nel 2008 il canone della RAI era poco più di 100 euro e il finanziamento dello Stato per studente era di 125 euro per abitante, chiedo scusa, 125 euro per abitante italiano. Nel 2012 si assisterà per la prima volta nella storia al pareggio, cioè 112 euro è il canone RAI, 112 euro è il finanziamento che lo Stato dà per ogni abitante, spende per ogni abitante per sostenere tutto il sistema universitario italiano. Nel 2013, io non so cosa accadrà al canone RAI ma nell'ipotesi che non diminuisca visto che è prevista una riduzione ulteriore del finanziamento dello Stato, per la prima volta nella storia costerà di più abbonarsi alla televisione che sostenere il sistema universitario italiano. Ecco, lo dico perché è giusto ragionare sugli output ma in una logica di efficienza e di produttività, mi pare che sia una logica suggerita nelle raccomandazioni dell'OECD, vi sono anche gli input e gli input sono questi. E gli input che poi hanno dei riflessi molto semplici, sono andato a prendere l'ultima classifica delle università internazionali, spesso vogliamo sollecitati dai ranking internazionali, ci chiedono come mai l'Italia non è presente. L'Italia non è presente per due motivi molto semplici. Il primo è che non possiamo assumere premi Nobel, perché un parametro molto importante è se hai o no dei premi Nobel. Io l'ho chiesto nella mia università cosa bisogna fare per assumere un premio Nobel, mi hanno detto bisogna offrirgli uno stipendio molto più alto, il che mi sono fermato. La seconda informazione è avere un rapporto tra docenti e studenti più o meno intorno a 10, cioè un docente, un ricercatore, ogni 10 studenti. Nella Lombardia, che è un sistema universitario virtuoso nel paese, noi siamo mediamente a 1 a 30, cioè in una regione come la Lombardia con 10 milioni di abitanti, noi dovremmo avere il triplo dei ricercatori. Ora, siccome riteniamo di essere abbastanza bravi in termini di produttività, pro capite, possiamo fare il doppio meglio degli altri, ma forse il triplo è un po' esagerato.